Comunque noi qui siamo fortunati. Sei stato colpito da un altro baco? No, lasciami parlare. Dicevo, qui siamo fortunati, in questa specie di terra promessa che ci hanno concesso, solo nostra, al sicuro da tutto e da tutti, con tutto quello che ci serve, eternamente liberi. Non come i nostri avatar reali, che sono stati divorati dagli orchi. Gli orchi? Sì, non lo sai? Quando gli orchi hanno divorato tutti gli avatar reali, alcuni di noi sono stati trasportati qui, per ricostruire un nuovo pianeta e tramandare la nostra cultura. Riuscirai mai ad arrenderti all'idea che ci hanno semplicemente dimenticati? No, perché tanto non puoi provarlo e la mia versione dei fatti mi piace di più. Grazie a tutti.